Sono Mario Fiorentini, sono nato il 7 novembre 1918, ora il 7 novembre è una data epocale, il 7 novembre 1917 nasce la Repubblica Sovietica e per diversi anni ho celebrato sia il mio compleanno il 7 novembre sia la rivoluzione sovietica, in particolare l'ho fatto nel 1943 quando ero nella guerriglia urbana a Roma, l'ho fatto nel 1944 quando combattevo in Lombardia sul lago di Como alla 52esima divisione Garibaldi, Dongo e il 7 novembre del 1945 a Roma all'ambasciata sovietica dove tentai, veniva celebrata la rivoluzione ottobre e dove io tentai purtroppo senza riuscirci di ubriacarmi dopo aver bevuto un numero imprecisato di bicchierini di cognac, vodka e tutto il resto, perciò il 7 novembre è una, la rivoluzione anni